Si può dire che abbiamo dato una forma visiva ai profumi? Lo reputo un complimento perché la performance era per così dire a servizio di Gio Manzoni, quindi della sua arte pittorica. Il fatto di essere riuscito a creare dei profumi che diventino in qualche modo pittura, quindi addirittura dei profumi che rappresentino ancora prima di vederla la pittura stessa di Gio Manzoni mi rende particolarmente orgoglioso.